Buongiorno, io sono Alberto Gai, sales engineer per Alfa Laval Italy SRL. Alfa Laval è una multinazionale svedese che produce, assembla e commercia in pianti industriali. Personalmente lavoro nella divisione marina, per cui mi occupo di cantieri navali e in generale navi. La mia azienda produce tutti i sistemi di tipo ausiliare di bordo, come separatori centrifughi dell'olio e gasolio, trattamento acqua di zavorra, trattamento acqua di sentina, scambiatore di calore a piastre e tutto quanto concerne la sala macchina. Abbiamo scelto di aderire alla Blue Skills, in quanto riteniamo che sia sempre un'ottima occasione di incontro con le altre realtà che ruotano intorno al mondo navale. Un'occasione anche per incontrare i giovani che potrebbero essere attratti da intraprendere una carriera nella nostra azienda o comunque nel mondo navale. Genova di per sé è storicamente un polo che ha una rilevanza enorme nel mondo dello shipping, dell'industria e della cantieristica navale, per cui non poteva essere altrimenti che noi prendessimo parte a questo interessante evento.